L'archivio di Stato di Teramo a ridosso della chiesa di Sant'Agostino è un luogo incantevole. Ex convento agostiniano del 1200, convertito poi in carcere dal 1700 fino al 1987, possiede 12 chilometri di materiale archivistico e oltre 30 depositi. Un patrimonio di valore inestimabile che per essere fruibile a tutti dovrà essere visitabile online. Questo grande progetto di digitalizzazione finanziato dalla Fondazione Tercas sarà illustrato durante un convegno che si terrà sabato 6 novembre alle ore 17 proprio nei locali storici di via Cesare Battisti a Teramo. Dalle pergamene della famiglia Melatino alle fotografie dell'Istituto Luce e questo è il titolo dell'incontro. Questo in realtà è un progetto che è già iniziato negli anni scorsi. Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del nostro istituto anche le pergamene delfico, altre documentazioni, soprattutto documentazione rara, preziosa per la sua unicità ed importanza. Questa volta pubblichiamo le pergamene del cosiddetto fondo provinciale, molte pergamene, sono quelle pergamene che in realtà provengono dagli antichi monasteri soppressi nel nostro territorio provinciale, all'indomani dell'Unità d'Italia, furono acquisiti dagli uffici finanziari che a loro volta poi li versarono all'archivio di Stato. Quindi si tratta naturalmente di documenti veramente preziosi e unici, come pure i cadastri antichi, quindi i cadastri antichi si intendono i cadastri pre-ongiari, cioè cinquecenteschi e seicenteschi, un fondo molto interessante del fondo Questura, un fondo fotografico dell'Istituto Luce. Tutto questo sarà messo online? Il finanziamento della fondazione Eterca ci permette di iniziare questo lavoro che speriamo poi di continuare via via per pubblicare, per rendere disponibili agli studiosi online tutta questa documentazione. Quale sarà il futuro dell'archivio di Stato di Teramo? Il futuro dell'archivio di Stato di Teramo, diciamo, è che noi ci stiamo impegnando anche da un punto di vista di miglioramento proprio della struttura tecnologico funzionale. Non a caso stiamo ospitando una mostra della fondazione Celommi, una mostra importantissima, una biennale di incisioni e di scultura che si è potuta realizzare solamente per la nostra disponibilità e peraltro per la disponibilità anche del personale, dei colleghi che si sono resi disponibili appunto a questa operazione.